Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Tu solo sei Santo, Signore. E fuori di Te non c'è luce di bontà. Per l'intercessione e l'esempio di Sant'Aldo. Fa che viviamo una vita autenticamente cristiana, per non essere privati della Tua visione nel cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con Te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei Cieli. Si è santificato il Tuo nome. Venga il Tuo regno. Sia fatta la Tua volontà. Come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti. Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ma liberaci dal male. Amen. Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con Te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.